Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, negli ultimi giorni prima del voto, si è recato a bussi sul Tirino, dove c'era una folla da aspettarlo. Insieme al Ministro c'era il Senatore Giuseppe Bellachioma, presenti anche alcuni candidati della Lega alle regionali. Il Vice Premier ai microfoni si è soffermato sul terremoto e sulla ricostruzione, ma anche su Quotacento e sui vari ricollegamenti abruzzesi. Siamo a lavoro per recuperare anni, in qualche caso decenni di incuria, di pessima gestione politica. Ieri ero all'Aquila dove aspettano da dieci anni un nuovo comando dei Vigili del Fuoco e già ci stiamo lavorando. Anche qua il territorio abruzzese è uno dei più belli. L'Italia va curato, va tutelato, va difeso, va valorizzato. E quindi siamo già a lavoro su questo. Diciamo che una nuova regione, più concreta, più efficiente, più veloce, più libera da certi interessi, sarà una garanzia. Sono orgoglioso perché ho incontrato quelle mamme, quei papà, quegli orfani, quelle vedove, quei nonni, che per due anni sono stati presi in giro. È un piccolo gesto, però in 15 giorni abbiamo fatto quello che altri non hanno fatto in due anni. Nessuno riporta indietro quei morti, però quantomeno che è rimasto su questa terra la giustizia. Poi ho visto che anche la magistratura sta procedendo contro chi non ha fatto quello che doveva. Stamattina ho parlato con tanti aquilani, sia coloro che stanno ricostruendo, sia coloro che aspettano. Stiamo velocizzando anche questo. Di ricostruire, velocemente, perché ci sono ancora decine di migliaia di abruzzesi fuori di casa. Mi chiedono più sicurezza e questo sono in grado di garantirlo. Sono più poliziotti e meno immigrati in giro per l'Abruzzo nel 2019 e lavoro. Io ho visto oggi con enorme soddisfazione che la provincia italiana che sta aderendo con più entusiasmo a quota 100 è l'Aquila. C'è bisogno di più collegamenti, di più ponti, di più aeroporti, di più strade, di più ferrovie, di meno inquinamento in Italia. Quindi tutto quello che aiuta a inquinare di meno e a viaggiare meglio è il benvenuto. Può essere la TAP, può essere il Terzo Valico, può essere Roma-Pescara, può essere una ferrovia in Sardegna piuttosto che in Sicilia. Quindi una cosa non esclude l'altra. A pochi passi dalla sala consigliare di Bussi non sono mancate le polemiche. Un flash mob con decine di barchette di carta, con frasi inneggianti all'accoglienza e alla fratellanza dei popoli, è in atto questa mattina nel Parco della Quercia. Barchette di carta fragili, con messaggi di accoglienza, colori e disegni che richiamano il dramma di chi va alla ricerca di un futuro, ma si trova in balia delle onde e spesso non sopravvive. Anche nella vicina Pescara è in corso l'installazione delle mani, che in precedenza erano atri, sempre con lo stesso scopo di sottolineare l'importanza dell'accoglienza. E infine un 49 è scritto sulla collina antistante Bussi, per indicare i 49 milioni da restituire della Lega.